E con il caldo aumenta anche il rischio degli incendi boschivi, sono oltre 1.300 quelli che si sono verificati dall'inizio dell'anno. Le regioni più colpite sono Campania, Calabria e Piemonte. La buona notizia però è che c'è un calo dei rughi rispetto agli ultimi 5 anni, come ci racconta il nostro Matteo Parlato. Più di 6.000 ettari di boschi andati in fumo in 6 mesi, i primi dati della Campania Antincendi del Corpo Forestale dello Stato ci dicono che l'Italia è a rischio, ma anche che la vigilanza paga. Rispetto al 2014, che è stato molto piovoso, gli incendi sono aumentati ma negli ultimi 5 anni sono calati del 2% come numero, mentre è diminuita del 26% la superficie di foresta bruciata. Altro elemento è che si è ridotto l'avanzamento delle fiamme di circa un terzo, passando da una media di 6,6 ettari percorsi ai 4,8. Si interviene prima e meglio. Dietro i rughi c'è la mano dell'uomo. Nel 2014 la forestale ha denunciato 130 persone, mentre sono 85 i piromani segnalati da gennaio. Proprio ieri un casertano di 39 anni è stato condannato agli arresti domiciliari dopo essere stato ripreso all'inizio del mese dalle fototrappole della forestale, mentre abbandonava inneschi accesi sul limitare del bosco. La repressione di questi reati è difficile, sono molti e spesso remoti i luoghi da cui si può far partire un incendio. E oltre al danno c'è anche il costo. L'intervento di un elicottero va dai 1000 ai 3000 euro l'ora, mentre un canaderne costa 5000. La velocità dell'intervento è fondamentale per ridurre i danni, quindi se vedete fiamme segnalatele subito al 1515, numero attivo 24 ore su 24.